benvenuti a tutti voi in questa registrazione troverete una voce che vi accompagnerà in un viaggio rilassante il vostro unico compito è trovare una posizione comoda e un luogo che vi consenta di rilassarvi e concentrarvi su voi stessi senza essere interrotti da input esterni bene iniziamo chiudete gli occhi sentite il vostro corpo in contatto con il pavimento o con la sedia se siete seduti inspirate profondamente dal naso cercando di gonfiare la pancia ed espirate dalla bocca sgonfiando la pancia inspirate e espirate inspirate e espirate inspirate e espirate sentite il vostro corpo rilassato e la vostra mente piano piano si libera da preoccupazioni e pensieri portate la vostra concentrazione sulla punta del piede destro iniziate a sentire una piacevole sensazione di calore che piano piano sale tutto il piede destro è piacevolmente caldo e rilassato questa sensazione lentamente sale fino al ginocchio e dal ginocchio fino all'anca tutta la gamba destra è piacevolmente calda e rilassata il vostro respiro è sempre più profondo rilassato ogni preoccupazione si fa sempre più lontana ora portate la concentrazione sulla punta del piede sinistro iniziate a sentire anche al piede sinistro una piacevole sensazione di calore con lentezza sentite tutto il piede sinistro caldo e rilassato questa sensazione lentamente sale fino al ginocchio e dal ginocchio fino all'anca entrambe le gambe sono rilassate piacevolmente calde il respiro è profondo rilassato e tranquillo questo piacevole calore questo rilassamento muscolare lo percepite anche alla mano destra e piano piano sale verso il gomito e dal gomito alla spalla tutto il braccio destro è pesante e rilassato ogni muscolo è disteso il respiro è profondo e tranquillo un piacevole calore iniziate a sentirlo anche alla mano sinistra e dalla mano sinistra piano piano sale fino al gomito e dal gomito alla spalla entrambe le braccia ed entrambe le gambe sono rilassate distese e piacevolmente calde sono piacevolmente rilassati anche il bacino e la zona bassa della schiena il tronco la parte centrale della schiena e le spalle tutto il vostro corpo è rilassato e caldo il respiro è profondo tranquillo e regolare la vostra mente è libera rilassata vi sentite tranquilli e ad ogni vostro respiro vi abbandonate ad una sensazione di benessere ora immaginate di camminare in un prato verde gustate la sensazione dell'erba sotto i piedi e respirate l'aria tiepida primaverile apprezzando ogni profumo ammirate curiosi l'ambiente attorno a voi visualizzatene i colori immaginate che ad ogni vostro respiro il vostro corpo ne assorba la forza il rosso dei papaveri che vi infonde energia vitale il giallo e l'arancione del sole che vi trasmettono gioia vivacità e leggerezza mentre il verde del prato alimenta una sensazione di armonia con tutto ciò che vi circonda visualizzate ora il blu intenso di un cielo terzo e ispirando caricatevi di creatività di voglia di comunicare concentratevi ora sui fiori che trovate nel prato raccoglietene alcuni di colore indaco un colore che vi acuisce intuizione e altri fiori violetti i colori stanno agendo su di voi godetevi questa sensazione di benessere siete tranquilli e rilassati e rilassati ora piano piano riprendete contatto col corpo lentamente iniziate iniziate a muovere i piedi e le mani le braccia e le gambe ogni movimento è lento dentro di voi provate una sensazione di piacevole relax vi sentite pronti ad affrontare i vostri impegni mente e corpo sono carichi vitali e vi sentite sereni e tranquilli forti soddisfatti lentamente tutto il vostro corpo riprende contatto con la superficie del pavimento o della sedia aprite piano gli occhi allungate i muscoli il vostro corpo e la vostra mente sono scattanti e pieni di energia questo percorso lo potrete fare ogni volta che vorrete e ogni volta che ne sentirete il bisogno ovunque voi siate a casa o al lavoro inoltre se questa esperienza vi è piaciuta visitate anche gli altri podcast con altre differenti guide al treni autogeno grazie a tutti